Ed eccoci ben ritrovati, buongiorno a tutti e buongiorno anche al nostro ospite, il dottor Rosario Quagliero è tornato a trovarci, esperto in sicurezza, la sicurezza al primo posto sempre, anche quando ci sono emergenze come quella impostaci dal coronavirus, non è quella un'autorizzazione ad abbassare la guardia? Buongiorno a tutti, buongiorno ai telespettatori e soprattutto ha detto una parola magica, non abbassare mai la guardia, è impossibile, la sicurezza prescinde da tutto, quindi la sicurezza viene prima di tutto. Viene prima di tutto, ma la sicurezza non è un'idea, la sicurezza è scritta, nera su bianco, la sicurezza è legge del nostro Paese, anzi abbiamo un corpo di leggi molto molto ben articolato, è tutto molto chiaro eppure lei mi insegna, ci sono delle scappatoie o dei momenti di distrazione. In questo meandro di leggi che è il testo unico in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro è tutto ben chiaro ed evidente, è normale che poi se si vuole trovare una scappatoia la si trova attraverso il frottare quello che è la sicurezza nei luoghi di lavoro. Io metto sempre a primo posto l'incolumità del lavoratore, quindi il datore di lavoro alla sua impresa la reputa un po' come il suo figlio ed è importantissimo tutelarla e non si può prescindere da passare attraverso il testo unico che è il decreto legislativo 8108. Ecco, la legge non richiede che ogni lavoratore impari a memoria il testo unico, però stabilisce dei livelli di conoscenza per poter appunto mettere tutti quanti al corrente di quelle che sono le norme di sicurezza. Vede, questo decreto legislativo 8108 è chiaro ed evidente a tutti. Il datore di lavoro ha l'obbligo di formare e informare il proprio personale attraverso corsi di specializzazione, dall'articolo 37 che è il corso generale specifica, che cosa significa generale perché riguarda le 4 ore di formazione per tutte le attività. E poi ci sono le attività a basso, medio e alto rischio che passano attraverso attività specifica del proprio compito che svolgono in azienda e quindi vengono formati con 4, 8, fino ad arrivare a 16 ore. Ed è questo che dovrebbe attuare ogni singolo datore di lavoro, in maniera tale che ogni lavoratore è a conoscenza dei propri rischi e quindi di tutelare la propria incolumità. Sicurezza bassa o media alta? Ci può fare un esempio di ognuna? Guardi, sicuramente, ad esempio prendiamo il commercio, un negozio di scarpe, di abbigliamento, di entra tra quelle attività a basso rischio perché la probabilità di accadimento di un infortunio si ritiene basso. Se noi invece andassimo nell'azienda, che può essere una fabbrica, in quel caso incominciamo a salire con il rischio. Si passa da basso a medio. Che cosa significa medio rischio? La probabilità che qualcosa possa accadere diventa un attimino più attenzionata e quindi si fa un corso proprio per il rischio medio, fino ad arrivare a quelle aziende complesse nell'ambito delle aziende che hanno dei cicli di produzione complicati e quindi lì il rischio è alto. Non è alto perché possa accadere o debba accadere sicuramente qualcosa, perché in questo processo potevano essere ben chiari ed evidenti tutte le norme che vanno ad applicare all'interno dell'azienda. Ecco allora possiamo immaginare che in una fabbrica dove si lavora l'acciaio e abbiamo avuto purtroppo, viene subito in mente, la Tissen Group per quanto riguarda proprio l'incidente durante le fasi di lavorazione, ma anche l'incidentalità delle morti che avvengono normalmente per esempio intorno a un'acciaieria come accade a Tarno. C'è un dibattito aperto, una grande ferita nel nostro paese. Ma questa è una ferita purtroppo che non si riesce a immaginare e non si immaginerà mai. È un segno indelebile che ha colpito il nostro paese. Lì sono emerse una serie di problematiche, dalla mancata norma attuabile quindi all'interno dell'azienda, mancata formazione, sono state tante le situazioni che hanno portato a un incidente grave come quello. Oggi è necessario... Il caso Taranto lì sono effetti collaterali, ma uno dei bambini... Parlando nello specifico del caso di Taranto abbiamo chiaramente delle gravi negligenze in materia ambientale che non è assolutamente concepibile, un paese moderno come il nostro, quindi c'è la necessità di mettere in campo una serie di iniziative che tutelano la salute, perché in questo caso stiamo parlando della salute e quindi vanno tutelate. Certo, infatti io parlavo di un argomento contiguo, vicino, perché lei chiaramente in altri appuntamenti ci ha parlato anche della tematica salute, che cammina insieme alla sicurezza. Fatta questa premessa che ci ha poi spinti un po' lontani, io volevo tornare al tema della sicurezza alta, ma se io considero in un'acciaieria alta il tema della sicurezza, laddove si preparano fuochi d'artificio, come devo considerare quell'ambito? Quello sicuramente è a rischio alto, significa che tutte le procedure che devono essere messe in campo devono essere controllate, verificate e poi divulgate. La divulgazione passa, come dicevo prima, attraverso la formazione, quindi il dipendente, l'operaio, il tecnico deve sapere quali sono le procedure da attuare, come si deve comportare e quali sono chiaramente tutti i parametri di sicurezza che deve mettere in campo. Non si può prescindere dalla formazione. Io la vedo tranquilla, nel senso che lei sta lanciando questo messaggio, mi dica se sbaglio, che persino in una fabbrica dove si maneggia polvere pirica, se si applica la sicurezza non accadrà mai un incidente. Certo, è così. Guardi, le aziende ad alto rischio paradossalmente sono quelle che sono maggiormente controllate e quindi tutti sanno che devono attuare queste procedure. L'incidente, lì dove dovesse accadere, perché ce ne sono stati e purtroppo anche mortali, significa che c'è stato qualcosa che non ha funzionato. C'è stata una negligenza, un cortocircuito nel processo di attuazione del protocollo di sicurezza. Quindi bisogna entrare nel dettaglio e analizzare che cosa è che non ha funzionato. È stato il datore di lavoro che non ha messo in campo tutte le iniziative di prevenzione e protezione o è stato il lavoratore che nonostante abbia ricevuto tutte le indicazioni e quindi la corretta formazione, c'è stato un cortocircuito. Ha fatto qualcosa di sbagliato. È chiaro che esistono anche i casi di fatalità, ma sono pochi e sinceramente poco probabili. Quindi l'errore umano è quello che ci porta poi a un incidente grave fino ad arrivare alla morte. È giusto appunto. Possiamo proprio parlare di scienza della sicurezza. Se noi abbiamo studiato a tavolino tutti i presaggi di una incidentalità, di un accadimento grave, allo stesso tempo ci siamo messi a riparo da questa evenienza perché abbiamo studiato tutte le ipotesi affinché non si avverino. Tuttavia nel flusso lavorativo entrano in gioco tante variabili. Un lavoratore troppo anziano, quindi stanco o distratto, o un lavoratore giovane che non ha ancora acquisito quella professionalità. E qui ritorniamo al problema. In capo a chi va la responsabilità di avere sempre il polso della situazione? Cioè chi è la persona che è incaricata sempre, l'altra volta abbiamo parlato di formazione continua, chi è la persona incaricata sempre di vigilare e di evitare che avvengano a volte delle vere e proprie tragedie? Guardi, la sua è una domanda interessantissima ma complessa. Cercherò di essere breve. Innanzitutto la responsabilità è sempre in capo al datore di lavoro. Il datore di lavoro deve elaborare il documento di valutazione rischi, questo famoso DVR, dove va a elencare tutti i rischi. Nel momento in cui li ha evidenziati, attua un piano e un protocollo per eliminarli. Lì dove non è possibile eliminare il rischio si abbassa la probabilità di accadimento. All'interno di questo documento esiste un organigramma della sicurezza. Chi fa cosa e in che modo? Quindi subito dopo il datore di lavoro chiaramente c'è il preposto. Chi è il preposto? È una figura molto importante che è il vecchio caposquadra di una volta. Quindi questa figura del preposto ha una responsabilità soggettiva nell'attuazione dei protocolli dettati dal datore di lavoro. Quindi le faccio un esempio lampante. Io sono un operaio, prendo indicazioni dal preposto, il quale deve vigilare non solo concretamente su quello che io faccio, tutte le procedure di sicurezza attuate, ma deve dare anche esempi di iniziativa. Se io dovessi sbagliare qualcosa, lei mi ha parlato del neoassunto, viene dato in responsabilità al preposto, il quale lo forma, lo mette in condizioni di lavorare bene e poi fa dei corsi professionali per affiancare l'attività professionale alle procedure di sicurezza. E poi c'è l'operatore, c'è il tecnico, che sono comunque dei lavoratori che non solo sono stati formati, addestrati, ma vengono controllati dal preposto. Poi c'è la figura piccola, che è il compito dell'azienda, l'RSPP spesso può essere esterno o anche all'interno dell'azienda. E quindi questa è una figura che ha il compito di sovrassedere a tutte le procedure in materia di sicurezza e affianca il datore di lavoro affinché dia tutte le indicazioni per evitare qualsiasi infortunio all'interno dell'azienda. Ecco, dottor Quaglia, abbiamo gli ultimi due minuti, però questa domanda volevo fargliela. Fa più danni, forse non ci sono statistiche, ma sicuramente è oggetto di studio da parte di un esperto come lei, fa più danni la superficialità che nasce dalla troppa esperienza? Ho fatto così tante volte quella cosa che magari la faccio senza l'attenzione massima? Oppure l'inesperienza che magari mi fa commettere un errore che può essere più o meno grave? Vede, l'inesperto è difficile che possa commettere degli errori, perché è quello che è maggiormente attento e cerca di apprendere quando prima tutto quello che è possibile. Invece la superficialità, chi ha sempre fatto quello, che lo fa da anni ed è convinto di poter fare bene, lì può nascere il pericolo, fino a trasformarsi a un danno per chi arriva all'incidente. La troppa sicurezza, l'essere sempre disattento perché quella cosa la faccio tutti i giorni, c'è un abbassamento dell'attenzione e quindi lì... Mi piacerebbe che l'ha detto perché superficialità forse è un termine fuori luogo, però era proprio questo, cioè quel pensiero che ti fa commettere il errore, cioè l'ho fatto tante volte e è andata bene, andrà bene pure questa e poi magari invece quelle da volta... Purtroppo non è così perché i casi sono basati sulla matematica ed è chiaro che se io continuo a commettere lo stesso errore per la superficialità, quindi per la poca attenzione, arriverà il momento in cui purtroppo quello si genera in un incidente. La brutta notizia è che il tempo di oggi a nostra disposizione è scaduto, la bella notizia è che noi la inviteremo nuovamente e continueremo a parlare di questo tema importantissimo e ancora di Covid che purtroppo al momento non ci ha ancora lasciati. Grazie dottor Quaglieru per essere stato con noi, grazie anche a voi a casa, ci rivediamo presto.